Il mio domani nella mia testa me lo sono già progettato, ma al di là del calcio anche a livello familiare lo vedo soltanto qui a Roma. Con dei compiti precisi a coprire certe zone e a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma è lo spunto della punta né del 10 che... De Rossi, la Roma è in vantaggio, la Roma è in vantaggio, esattamente al minuto 16 del corso del primo tempo, cambia il parziale allo stadio olimpico. Ha segnato la Roma, ha segnato Daniele De Rossi, ha segnato il capitano in un'azione concitatissima all'interno dei 16 metri dell'Azzurri. Cambia il parziale allo stadio olimpico, Roma 1, Inter 0, ha segnato Daniele De Rossi. È una scelta di cuore in parte, ma spero anche di testa, perché io non rimango qui per fare il turista a Roma, per vedere il Colosseo, o perché voglio stare a casa. Sicuramente c'è una componente affettiva, ma io credo molto anche in questo progetto, che è una parola che si è usata e si è abusata moltissimo in questo periodo, ma ci credo veramente, mi aspetto molto da questa società. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare e fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Uriali, anni di fatiche fotte vinci i casi o mai mondiali. Guarda qui, adesso... Sì! Sei stato un cruZio! Sei stato un cruZio! Ma lei è il mezzo, finché non sei stai, lì, stai, lì, sempre lì. Lei è il mezzo, finché non sei, finché non sei, stai, lì, sempre lì. Lei è il mezzo, finché non sei, finché non sei, stai, lì. Si può essere grandi, si può essere grandissimi, forse che a Roma anche senza vincere. Io qui sto bene e ho bisogno della Roma per giocare a pallone in una certa maniera.